Buongiorno a tutti ragazzi, come promesso stiamo cercando di migliorare la qualità del canale, come vedete qui vicino a me ho il microfono e spero di fornirvi presto anche una migliore qualità video, visto che comunque siamo ancora in bassa definizione. Vi saluto intanto con la magliettina del centenario del primo scudetto della Juventus, un ricordo anche legato a Calciopoli e che sicuramente molti di voi come me porteranno dentro quel periodo con un po' di amarezza. Però volevo parlarvi di calciomercato, ci sono alcune novità interessanti. La Juventus in questo momento ha ricevuto delle offerte importanti per il calciomercato di gennaio, no al Beciktas per Mandžukic, no al Galatasaray per Quado Asamoah. Al momento la situazione, perché mi arrivano tante domande sul calciomercato di gennaio, la situazione è questa, la Juventus non ha assolutamente bisogno di intervenire in nessun ruolo preciso, forse quello con più deficit al momento è la corsia di destra in difesa, dove De Sciglio ha dimostrato di essere un giocatore importante, di poter crescere, di poter dare un contributo importante alla Juventus, ma troppe volte si è fermato per infortunio. Ci sono comunque diverse alternative, perché a destra può giocare Licksteiner, che potrebbe essere reintegrato come l'anno scorso nella lista della Champions League, questo lo deciderà Mr. Allegri, e poi c'è l'opzione sempre legata a Stefano Sturaro, e l'opzione legata all'adattamento a destra sia di Barzagli che di Ouedes, quando sarà completamente recuperato. Io credo che a gennaio la Juventus, a che se ne voglia dire, non farà nulla, né in entrata né in uscita. È possibile magari che qualche giovane vada in prestito, magari qualche movimento, si parla tanto di Orsolini e di altri giocatori, come per dire Leali, che andrà al Perugia, dopo l'esperienza molto negativa allo Zultevarichem. Però comunque credo che la Juventus, questo calcio a mercato a gennaio, non farà nulla, ma lavorerà, come tutti gli anni, alla definizione dei primi colpi per la prossima sessione di mercato. Il primo colpo in assoluto è legato all'acquisto di Emre Can. Emre Can è stato bloccato, non arriverà a gennaio, non avrebbe senso, anche perché comunque va ribadito il forte concetto che Emre Can non può giocare in Champions League. La Juventus in questo momento ha un centrocampo folto, anche se Marchisio sta avendo qualche problema. Comunque a che dire, a Pjanic, a Matuidi, a comunque Sturaro e Rosa, ha una folta possibilità di alternative. e in questo momento non ha bisogno di ritoccare il centrocampo. Al di là di questo, Emre Can arriverà alla Juventus a parametro zero a giugno e su questo la Juventus sta già lavorando da adesso, anche se, come sapete, bisogna aspettare la fine di giugno per l'ufficialità di questa effettiva trattativa. Oltre a Emre Can si sta lavorando su diverse altre piste, ma la notizia importante che arriva oggi, arriva da un'intervista di Sami Ghedira a Sky Sport, è che Sami Ghedira vuole continuare in bianco-nero. Va ricordato che il giocatore, nonostante è tantissimo che è nel calcio e è tantissimo che, appunto, gioca ad altissimi livelli, è un giocatore ancora abbastanza giovane, visto che è un 87. Quindi Ghedira, che sembrava destinato già l'estate scorsa ad andare a giocare nella MLS League, continuerà a giocare nella Juventus e addirittura ha detto che accetterebbe un rinnovo. Ora, il suo contratto è scadenza nel 2019, è probabile, quindi, che Sami Ghedira accetti di rinnovare ancora e di continuare ancora a giocare in bianco-nero. Così, andando a fare un attimino la summa di quello che è il reparto del centrocampo bianco-nero, all'inizio della prossima stagione, la Juve si ritroverebbe con i tre titolari che ci sono al momento, e cioè Pjanic, Ghedira e Matuidi. Emre Can, che è un titolarissimo, Marchisio, che bisognerà valutare la sua condizione di giorno in giorno, e Stefano Sturaro, che potrebbe essere il sacrificato, anche perché la Juve potrebbe decidere, magari, di andare a prendere anche qualche altro giocatore. A mio avviso, Sturaro è uno che io, in rosa, me lo terrei sempre. Difesa, al momento, non serve particolarmente nulla, anche perché Alexandro sta ritrovando la sua continuità e non avrebbe senso cederlo ora e non verrà ceduto neanche a gennaio, a giugno, per me. Poi vedremo quello che accadrà. E Asamoah è un perfetto rincalzo, sta facendo una stagione straordinaria, vi ricordo che ha giocato titolare in partite importanti come con Napoli e con l'Inter, e ha sempre reso al massimo. A giugno, però, probabilmente Asamoah andrà al gala da Sarai. E in quel momento, poi, la Juve dovrà prendere una decisione. O cedere anche a Alexandro e rinnovare completamente la corsia sinistra, facendo un acquisto importante, o prendere Spinazzola e alternarlo a Alexandro. L'idea della Juve e dei dirigenti bianconeri è quella, assolutamente, di avere sempre e comunque due giocatori di livello per ruolo. Quindi non capiterà che la Juve prenderà un campionissimo a sinistra per alternarlo con un giocatore non all'altezza, perché Spinazzola è comunque un giocatore già pronto per un grande club. Vedremo quello che accadrà, questo è quello che potrebbe accadere a gennaio, in proiezione giugno, e intanto aspettiamo che arrivi lunedì prossimo manca ancora un po' di tempo, non lunedì prossimo, anzi scusate, tra due lunedì per ritornare in campo la sfida con il Genoa, che sicuramente sarà molto importante per la Juventus. Un abbraccio a tutti, un saluto e forza Juventus!